GG a tutti ragazzi, sono Elien e oggi vi parlerò delle attività online su Watch Dogs 2, mostrandovi un po' di gameplay registrato in esclusiva durante un evento che si è tenuto a Parigi, al quale ho avuto la fortuna e il privilegio di partecipare grazie a Ubisoft. Lo avevo anticipato nel mio video precedente su Watch Dogs 2, nel secondo capitolo, il multiplayer è tecnicamente di due tipi, seamless e a sessioni. Seamless, detto in parole povere, significa che abbiamo la possibilità di incontrare altri giocatori mentre ci muoviamo nella nostra area di gioco, senza sentire il bisogno di entrare in altre sessioni, quindi nessun tempo di caricamento. Possiamo comunque scegliere di disabilitare tutto e giocare completamente da soli, decidendo di nostra iniziativa quando giocare con gli altri e quindi gioco a sessioni, cioè quando siamo noi attraverso il nostro smartphone in gioco a decidere di avviare un'attività online cambiando dunque sessione. Le attività PvP e Co-op infatti funzionano così, specie il PvP o Player vs Player. Partiamo dall'attività Bounty Hunter o Cacciatore di Taglie. Mettiamo il caso che abbiamo deciso di non disabilitare il seamless online. Potremmo in qualsiasi momento ricevere una notifica di color viola, perché tutte le attività online sono di colore viola, se ricordate il mio scorso video, notifica che ci dice Occhio, c'è una taglia che possiamo riscuotere, c'è il giocatore X che è ricercato. Il giocatore viene ricercato se per esempio nella sessione comincia a rompere le scatole alla polizia commettendo dei crimini. In quell'occasione vedremo un segnale sulla sua testa, quindi attraverso il GPS impostato automaticamente se dovessimo accettare la taglia, beh, potremmo andarlo a cacciare. In teoria sino a tre giocatori possono unirsi in questa attività per cacciare appunto quel giocatore, quindi può esserci anche un 3 contro 1, i cacciatori nel caso di morte del ricercato, sia che l'abbiano ucciso loro o la polizia, guadagnano followers ed eventualmente research point utili per sviluppare le nostre abilità dall'albero d'abilità. Ma se il ricercato invece dovesse abbattere i suoi cacciatori, guadagnerà ancora più risorse, come è giusto che sia, visto lo svantaggio. Ah, chiaramente, se siamo noi a commettere dei crimini e a far arrabbiare la polizia, un giocatore nella nostra sessione potrebbe a sua volta ricevere notifica e venirci a cercare. La cosa funziona sempre a doppio senso. E nel caso in cui dovessimo disabilitare i seamless, beh, non potremmo essere hackerati o ricercati dagli altri, comunque in quel caso tramite il nostro smartphone possiamo avviare l'interfaccia delle attività online per effettuare la ricerca del tipo di partita che vogliamo fare. Possiamo scegliere sia avviare una missione co-op online, la caccia alle taglie o l'invasione hacking, vecchia modalità che immagino i veterani di Watch Dogs conoscono bene. Per esempio nel caso della caccia alle taglie si può decidere se vestire i pani del cacciatore di taglie o anche di diventare ricercato. In ogni caso la sessione cambierà e veremo teletrasportati dopo un breve caricamento appunto nella sessione con i giocatori scelti. Abbiamo poi chiaramente la classica modalità delle invasioni hacking, dove dobbiamo cercare di hackerare un avversario senza farci scoprire, e poi le attività di missioni co-op online che comunque si possono giocare anche da soli. In ogni caso possiamo vedere il simbolo delle missioni co-op anche sulla mappa e dunque avviarla. A questo punto un compagno verrà cercato tramite il matchmaking, sebbene ci sia l'opportunità di interrompere la ricerca. Avremo il nostro obiettivo in alto a sinistra, sempre del colore viola, per l'online. Riceveremo comunque notifica di un compagno che si aggiunge nella sessione. Eventualmente è scontato che possiamo invitare gente dalla nostra lista amici. Se dovessimo morire o il nostro compagno dovesse morire, sarà necessario attendere 20 secondi prima che possa ritornare in partita. Non ricordo le rianimazioni, non ho avuto modo di testare al 100%, ma da qualche ricordo non era possibile effettuarle, quindi per ora semplicemente diciamo che se uno muore bisogna cercare di restare vivi per almeno 20 secondi. Comunque una volta portata a termine la missione, riceviamo anche qui i followers ed eventualmente il research point, più anche degli oggetti cosmetici, immagino esclusivi. E il gioco in co-op con la necessità di comunicare diventa fondamentale se si vuol cercare di terminare una missione in modo stelto, cosa che siamo riusciti a fare. Io e uno youtuber francese di cui, scemo io, non mi sono neanche appuntato il nome, ma ero così emozionato che probabilmente mi avrete sentito nei video dei Player Inside e Surreal Power, l'urlare appunto per il divertimento come i bambini, perché così mi sentivo in quel momento. Dicevo, la comunicazione è fondamentale. Prossimamente vedrete quel video sottotitolato dove abbiamo terminato una missione online senza farci beccare. Lui mi distraeva gli scagnozzi, io li finivo. E quando una cosa del genere riesce con un perfetto sconosciuto parlando inglese, il mio inglese è diverso dal suo perché nessuno di noi è nativo, capite bene che sono soddisfazioni. Quindi, in definitiva, Watch Dogs 2 introduce più enfasi per le attività online. Non a caso ho praticamente passato la maggior parte del mio tempo a disposizione a Parigi giocando proprio queste attività. La considero una parte bella e importante del gioco, ma comunque il gioco resta completamente vivibile in single player classico e considerato che eravamo in circa 40 a quell'evento, l'online comunque funzionava bene, anche se appunto non eravamo in tantissimi. Immagino che con una player base più ampia, beh, le cose dovrebbero funzionare ancora meglio. Purtroppo non sono riuscito a fare tutte le domande che avrei voluto fare agli sviluppatori, me ne sono venute in testa altre dopo. Avrei voluto, per esempio, chiedere se per i PvP ci fosse una forma di matchmaking basato sullo sviluppo del personaggio, perché, ad esempio, lo avete visto, uno dei miei avversari riusciva ad hackerarmi l'auto, cosa che io ancora non potevo fare per mancanza di punti per sviluppare il personaggio. Io me ne andavo in giro poi con una pistola, fossimo scesi dalla macchina e lui avesse usato un fucile d'assalto, avrei avuto più difficoltà nel buttarlo giù. Fortuna che avevo la polizia dalla mia. Bene, questo è quanto, amici miei. E mi auguro che questo video vi sia stato utile, almeno per capire superficialmente, che tipo di esperienza online ci potremmo aspettare in Watch Dogs 2. Ricordo che il titolo esce il 15 novembre per PlayStation 4 e Xbox One e il 29 novembre per PC. La versione PlayStation 4 supporterà Day One, le ottimizzazioni per PlayStation 4 Pro tramite lo scaricamento di una patch. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, Alien vi saluta, love and peace.